Continua a parlare di violenza, violenza sulle donne, femminicidio. Ecco, qual è la situazione a Retina? Ad Arezzo c'è un centro antiviolenza riconosciuto dalla regione ma i fondi iniziano a scherzeggiare se non sono già quasi finiti? La nostra, pur essendo un'associazione di volontariato, quindi le operatrici che operano presso il centro antiviolenza sono volontarie, abbiamo comunque dei costi da sostenere che sono in particolare quelli per il mantenimento della casa rifugio che è una casa ad indirizzo secreto dove le donne vengono accolte in un momento di grave difficoltà. Quali sono i rischi a cui potrebbe andare incontro il centro violenza di Arezzo? Beh, alla chiusura, in maniera purtroppo alla chiusura o comunque a grosse difficoltà. Noi nel tempo abbiamo cercato di, come dire, di autosostenerci e comunque di cercare di superare il problema dei contributi degli enti pubblici. Abbiamo partecipato a dei bandi nazionali che ci hanno consentito di mantenere aperto e in funzione il centro antiviolenza per tutti questi anni. Abbiamo partecipato al bando che è uscito adesso, il mese di aprile, sempre del ministero, speriamo che ci venga finanziato e che quindi possiamo continuare a svolgere il nostro servizio per le donne. Anche se, mi permetto, non è sostenibile e non è dal nostro punto di vista naturalmente corretto che un centro possa rimanere aperto se noi riusciamo a vincere un bando perché il centro dà un servizio alle donne della provincia di Arezzo, donne che sono già in una situazione molto delicata perché subiscono violenza. Allora, ad oggi, siamo solo a giugno, si sono rivolte all'associazione Pronto Donna circa 170 donne che, se la rapportiamo all'apertura del centro che è aperto tre giorni la settimana, il lunedì, il mercoledì e il vendì, vi potete immaginare quanto sia la frequenza. Quindi è un accesso molto alto e quindi i numeri sono importanti. Quali sono le donne che si avvicinano? Il fenomeno della violenza è un fenomeno trasversale, non ha un indice preciso di disagio o di quant'altro. È chiaro che all'associazione Pronto Donna, essendo un'associazione che non ha costi, si rivolgono le donne soprattutto in difficoltà anche economica, anche di bassa contrattualità, donne che non sono in possesso dei propri documenti, che non hanno un lavoro, che sono volutamente tenute sottomesse da parte del maltrattante. E le donne straniere sono molte, ma non sono la maggioranza. La maggioranza sono comunque donne italiane.